Arriva di solto, si è concluso da poco un intervento importante di riqualificazione nella zona del Bogni, è stata anche inaugurata quest'opera. Spieghiamo cosa è stato fatto qui. Allora, l'idea che nasce al tempo dopo il Pocs Cripto, quindi alla fine era ciclo pedonale del Lago di Sè Unita. Abbiamo fatto la nostra parte cercando di riqualificare una zona che di per sé era già bella con qualche eccetricità, quindi abbiamo un attimino sistemato il discorso delle reti e quindi per le pareti rocceose, per la galleria più avanti, in modo che il posto e il luogo sia sicuro. Abbiamo poi proseguito quella che era la vecchia strada, quindi abbiamo ottenuto quello che era. Abbiamo riqualificato con questa terrazza panoramica, risultato la struttura che era già esistente e sono state inserite due piattaforme a lago per prendere il sole e quindi pensiamo che sia un intervento sicuramente migliorativo e quando uno arriva di solto dalla piazza può fare questa passeggiata percorrendo la passeggiata degli ulivi, arrivare qua in una zona di relax e di tranquillità. Avete pensato anche alla gestione dell'area? Allora, sono stati appena posizionati i bagni chimici chiaramente nella zona, è stato assegnato da bando a un food truck che posizionerà il suo mezzo, quindi darà servizio, controllerà, trarà in ordine l'area per il periodo estivo, ci sarà questa gestione, quindi sarà a servizio dei turisti, dei cittadini, di chi verrà a visitarci. Un investimento che ammonta quanto? 750 mila euro, usando i soldi di AQST, questa famosa accordo quadro di Regione Lombardia, è una parte mutua delle comune di Riva di Solto, altro quindi sforzo per arricchire e riqualificare un'area, ma penso che sia un po' sotto gli occhi di tutti che siano stati spesi bene, almeno spero.